Buongiorno a tutti, oggi tramite il progetto MedBiz parleremo della flora delle api nella nostra regione e quindi il territorio sardo e le sue diverse tipologie di miele. Il progetto MedBiz intende contribuire allo sviluppo di una vera e propria bi-economia mediterranea collegando i cluster in cinque paesi. Il progetto persegue l'obiettivo di formare dei giovani imprenditori che al termine del proprio viaggio saranno in grado di sviluppare nuovi prodotti per andare a creare e implementare una rete trasfrontaliera sostenibile. Nello specifico queste slide intendono dare uno strumento per guidare i visitatori nella storia, nell'importanza ecologica e ovviamente nelle diverse tipologie del miele presenti all'interno del territorio. Dal punto di vista storico l'uso del miele da parte dell'uomo si perde nella notte dei tempi in quanto questo veniva utilizzato come unico dolcificante naturale a disposizione da oltre 40.000 anni. Durante l'età del bronzo ad esempio la miscela di miele e di acqua e la cera d'api diventa un vero e proprio prodotto molto costoso e inizia a essere utilizzato in vari riti religiosi, da partire dalla nascita al matrimonio alla purificazione e alla morte. Con il passare dei secoli il miele è stato utilizzato in diversi ambiti e per comprendere la sua importanza, basti pensare che i pellegrini nel 1600 portarono proprio le api nel Nord America. Per quanto riguarda invece la Sardegna e il nostro territorio, anche questa ha una storia molto importante legata al miele e per questo motivo nei paragrafi successivi verranno presi in considerazione il legame storico dell'ape con il territorio e verranno inoltre esplicate le caratteristiche uniche dei prodotti dell'ape locale, sarda, che è sicuramente il risultato dell'ecosistema presente all'interno del nostro territorio. Il miele infatti è senza dubbio un prodotto legato al territorio di produzione e la sua composizione e le sue caratteristiche organolettiche derivano principalmente dal tipo di flora raccolta, cioè dalla materia prima da cui si origina il miele. Oltre alla vegetazione ci sono altri elementi legati al territorio che influenzano le caratteristiche, il tipo di suolo, il clima, le attività umane con particolari riferimenti possibili effetti sulla salubrità del prodotto che andremo a vedere successivamente. Invece parlando della tradizione e quindi del legame storico delle api all'interno del territorio sardo, si può ricordare che sicuramente il territorio sardo vanta un'antica tradizione in merito alle attività legate alla commercializzazione della cerea, del miele e dell'ape. Infatti questo è stato utilizzato fin dall'antichità come un prodotto alimentare nutriente, come un conservante, come medicinale per curare le varie variettie e per compiere determinati rituali. Secondo uno studio all'apicoltura in Sardegna, uno sguardo antropologico di Greta Natascia Meloni, l'attività piccola infatti è riportata in numerosi scritti in diversi periodi all'interno della storia sarda e addirittura è riportato e supportato da numerosi ritrovamenti di statuette risalenti addirittura al periodo onoragico. Secondo numerosi testi infatti già nel periodo onoragico gli storici affermano che il miele veniva raccolto e questa attività era molto rischiosa quanto la caccia e pertanto era riservata agli uomini. Con il miele raccolto si preparavano viettanze dolci e si mangiava al naturale anche nel corso dei secoli. Ovviamente nel periodo onoragico si pensa che questo venisse utilizzato come un integratore alimentare. successivamente nell'utà del bronzo questo e quindi l'utilizzo del miele e della cera d'api è andato via via espandendosi e si inizia ad ampliare il suo utilizzo in tutta l'isola e vi sono numerose prove che ovviamente affermano ciò che abbiamo appena detto come l'utilizzo della cera d'api per fondere manufatti di metallo e anche per la preparazione dei medicinali e dei cosmetici. Con il passare del tempo e dei secoli l'utilizzo del miele continua a essere molto importante e questo è testimoniato addirittura da una statuetta anteriormente alla conquista della Sardegna da parte dei romani. Circa nel 238 avanti Cristo è stata rinvenuta ad Oliena e rappresenta un uomo nudo con il corpo coperto di api che è Aristeo che secondo la leggenda è proprio lui che insegnò ai sardi la coltivazione degli olivi e della vita e la lavorazione del latte e addirittura dell'apicoltura. Per quanto riguarda i legami storici sono sicuramente legate alla grande varietà delle piante fiorite all'interno del territorio e infatti spostandoli in riferimento proprio all'interno dell'isola e quindi della Sardegna si può affermare che il miele raccolto è ottenuto quasi esclusivamente dal iniettare di fiori e di piante spontanee e o coltivate. Nello specifico l'isola può vantare un'ampia gampa di produzioni unifloreali che dunque sono caratterizzati dalla dominanza del nettare di un'unica specie botanica delle quali alcune tipiche nella nostra regione come il miele amaro di corbezzolo e quello di dolce di asfodelo e di cardo. Ovviamente parlando delle caratteristiche uniche dei prodotti dell'ape locale bisogna sicuramente ricordare che la Sardegna all'interno del territorio si producono circa 18 e 20 mila quintali ogni anno proprio di miele che rappresenta l'intera l'11 per cento dell'intera produzione nazionale. La flora di interesse e apistico comprete oltre 200 specie tra le quali abbiamo specie arborea e bustive di interesse forestale e anche di grande interesse nettarifero come il castagno e gli eucalipto. Queste ovviamente sono state introdotte all'interno del territorio. Spostando il riferimento alle differenti tipicità e varietà del miele possiamo affermare che in Sardegna è presente una grande varietà di piante fiorite presenti all'interno del territorio e ovviamente da diverse specie di api che lo raccolgono. Ogni tipo di miele è risultato quindi dal nettare raccolto dalle api da una specifica fonte floreale. Diversi fiori hanno composizioni chimiche e nutrienti uniche e questo si riflette nel miele e prodotto ovviamente dalle api. I fattori principali che contribuiscono alla diversità dei tipi di miele sono sicuramente la flora locale, le specie di api, il clima e le stagioni. La flora locale in quanto le piante fiorite nelle diverse regioni e stagioni influenzano il tipo di miele prodotto. Le api raccolgono il miele da fiori specifici e il sapore, il colore e le proprietà del miele variano a seconda delle pianti presenti nella zona. Le specie di api, diverse specie di queste, hanno preferenze differenti anche per le fonti floreali. Le abitudini alimentari delle api influenzano la selezione del nettare contribuendo alla varietà dei mieli. Il clima e le stagioni in quanto anche loro influenzano la disponibilità di fioriture, ad esempio alcune piante fioriscono solo in determinati periodi dell'anno portando a mieli stagionali. Altri fattori principali che contribuiscono alla diversità dei tipi di miele sono sicuramente il terreno e l'ambiente, l'elaborazione da parte delle api e l'apicoltura. Il terreno e l'ambiente, in quanto il terreno e l'ambiente naturale possono influenzare la qualità del nettare e quindi del miele prodotto e le caratteristiche del suolo e l'esposizione del sole possono variare da luogo in luogo. L'elaborazione delle api, le api svolgono un ruolo importante nella trasformazione ovviamente del nettare e miele attraverso processi di deumidificazione e arricchimento con enzimi. La composizione chimica e la qualità del miele sono influenzate anche da queste attività. L'apicoltura, ovviamente anche l'intervento umano nell'apicoltura può influenzare il tipo di miele prodotto e alcune apicolturi spostano le arnie in diverse zone per consentire alle api di raccogliere il nettare da fioriture specifiche creando mieni monoflora. In sintesi possiamo affermare che il miele e la sua diversità è una combinazione di diversi fattori naturali e dell'interazione tra api, piante e ambiente. Questa diversità rende il miele un prodotto unico e interessante con variazioni di gusto, colore e proprietà che possono essere apprezzate dai consumatori proprio in tutto il mondo. Difatti il miele sardo, indipendentemente dal tipo di fiori da cui è prodotto, condivide alcune proprietà comuni che lo rendono un alimento prezioso e benefico per la salute. Ad esempio è una fonte di energia perché grazie alla presenza di zuccheri semplici come il glucosa e il fruttosio vengono facilmente assorbiti dal corpo e forniscono una rapida fonte di combustibile. Ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie in quanto contiene enzimi e sostanze naturali che confuriscono proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Ovviamente queste proprietà possono aiutare a combattere le infezioni, lenire l'inflammazione e favorire l'aguarigione delle ferite. Ha un effetto antiossidante, è benefico per il sistema immunitario in quanto grazie alle sue proprietà antibatteriche e antiossidanti, migliore il consumo regolare sia dell'intestino che del tratto respiratorio in quanto riesce a lenire i sintomi come tosse, mal di gola e congestione nasale e infine ha un effetto lenitivo per il sistema digerente in quanto ha un effetto calmante su questo sistema e può aiutare a lenire disturbi gastrointestinali come il bruciere di stomaco, l'indigestione e la gastrite. Non di meno è molto importante per la salute della pelle in quanto il miele può essere utilizzato come ingrediente in maschere e trattamenti per la pelle. Grazie alle sue proprietà idratanti e lenitive può contribuire a mantenere la pelle morbida, idratata e luminosa. Attenzione però, è importante notare che le proprietà specifiche del miele sardo possono valere leggermente a seconda del tipo di fiori da cui è prodotto. Ad esempio, il miele di corbezzolo può presentare proprietà antinfiammatorie specifiche per il sistema respiratorio, mentre il miele di cardo può avere un effetto benefico sul sistema digestivo. Andiamo a vedere nello specifico quali sono le proprietà per ogni diverso e differente tipo di miele prodotto all'interno del territorio sardo. Il miele di corbezzolo è una delle prelibatezze sardigne più apprezzate. Le api si nutrono del nettare dei fiori di corbezzolo, che è una pianta ovviamente tipica della macchia mediterranea. Questo tipo di miele si distingue per il suo colore ambrato e per il sapore intenso e caratteristico. Le proprietà sono molteplici, è sicuramente un antiossidante, un antinfiammatorio e successivamente non possiamo dimenticare che ha un grande beneficio presente per quanto riguarda il sistema respiratorio, ha sicuramente una proprietà digerente e in quanto è apprezzato per le sue proprietà digestive, può favorire proprio la digestione e aiutare a lenire i disturbi gastrici. È un infiammatorio in quanto grazie alla presenza di flavonoidi, il miele di corbezzolo ha proprietà antinfiammatorie che possono contribuire ad alleviare infiammazioni e disturbi gastrointestinali. È antiossidante in quanto il miele di corbezzolo contiene alti livelli di polifenoli, potenti antiossidanti che aiutano a combattere lo stress ossidativo e a proteggere le cellule dei danni dei radicali liberi. Infine è un benefico per il sistema respiratorio in quanto il miele di corbezzolo è noto per le sue proprietà benefiche per questo sistema in quanto aiuta ad allenare ad alleviare la tosse, il mal di gola e la congestione nasale. Per quanto riguarda il miele di cardo è un altro tesoro dell'apicoltura sarda e le api raccolgono il nettare proprio da questi fiori per una pianta spinosa diffusa in tutta l'isola. Il miele si presenta con un colore chiaro e le sue proprietà sono molteplici. È sicuramente digestivo, antisettico, antiossidante e calmante. Calmante in quanto può essere utile per ridurre l'irritazione e l'infiammazione delle vie respiratorie. Antiossidante in quanto contiene antiossidanti naturali che possono contribuire a contrastare l'azione dei radicali liberi. È antisettico in quanto presenta proprietà antibatteriche e può essere utilizzato come rimedio naturale per le ferite, le infiammazioni e infezioni cutanee. Infine il digestivo esattamente come il corbezzolo in quanto riesce ad alleviare i disturbi come gonfiore, crampi e indigestione. Invece per quanto riguarda il miele di arancio è prodotto dalle api che si nutrono dal nettere proprio dei fiori degli alberi di arancio e tra le proprietà sono differenti rispetto a quelle che abbiamo neccato precedentemente in quanto è sicuramente ricco di vitamina C, in quanto è una buona fonte di vitamina e quindi di conseguente un potente antiossidante che sostiene il sistema immunitario e sicuramente anche rinfrescante. In quanto grazie al suo sapore fresco e leggermente agrumato il miele di arancio può essere utilizzato per preparare bevande rinfrescanti come tisane o limonate. Il miele di eucalipto invece viene prodotto dal nettale degli alberi di eucalipto, questo miele si presenta con un colore ambrato e scuro e ha un sapore intenso. Le proprietà anche in questo caso sono molteplici, sicuramente ha un effetto balsamico, antibatterico ed energizzante in quanto grazie all'elevato contenuto di zuccheri semplici può essere facilmente assorbito dall'organismo. Ha un effetto balsamico in quanto il miele di eucalipto può aiutare ad alleviare i sintomi dalle affezioni delle vie respiratorie ed antibatterico in quanto presenta sostanze antibatteriche naturali come il cineolo. Da notare che sicuramente il miele di eucalipto può essere utilizzato anche come un potente antibatterico, come ci siamo detti, in quanto riesce a combattere le infezioni e a promuovere la guarigione delle ferite. Per quanto riguarda il miele di asfodelo, è prodotto delle api che si nutrono dal nettare dei fiori di asfodelo, che è una pianta selvatica tipica della Sardegna. Tra le proprietà è sicuramente rinfrescante per la bocca ed è riequilibrante, significa che riesce a riequilibrare il sistema nervoso e ridurre lo stress. Rinfrescante invece, in quanto le notte mentolate presenti nel miele di eucalipto possono contribuire a rinfrescare l'alito e a lenire la gora irritata. Ovviamente è sempre il miele di asfodelo, bisogna ricordare che è un potente antiossidante, tonificante e digestivo. Il miele di timo è prodotto dalle api che invece si nutrono dal nettare dei fiori di timo, che è una pianta aromatico medicinale diffusa in Sardegna e questo miele si presenta con un colore ambrato, chiaro e un sapore aromatico leggermente piccante. Tra le proprietà del miele di timo è sicuramente antibatterico, calmante per la tosse, digestivo e antiossidante. Antibatterico, in quanto grazie alle proprietà antibatteriche naturali, il miele di timo può aiutare a combattere infezioni e rafforzare il sistema immunitario, è calmante per la tosse, in quanto le proprietà espettoranti e levittive del miele di timo lo rendono un rimedio efficace per alleviare la tosse e lenire la gora irritata. Inoltre è antiossidante digestivo, il primo in quanto contiene antiossidanti che aiutano a proteggere il corpo da danni dei radicali liberi e il secondo in quanto migliora la digestione e allenire i disturbi come il riflusso e l'indigestione. Attraverso queste slide abbiamo cercato di comprendere quali sono le varietà tipiche all'interno del territorio sardo e possiamo affermare che la Sardegna è nota sicuramente per essere una regione con una vasta varietà di flora e climi diversi, il che crea un ambiente ideale per la produzione di numerose varietà di miele. I fattori geografici, la vegetazione e le condizioni climatiche, uniche nel suo genere, contribuiscono alla diversità dei mieli prodotti proprio all'interno dell'isola. La preservazione delle tradizioni apistiche e ovviamente l'attenzione alla sostenibilità agricola possono sicuramente riuscire a contribuire a mantenere e a incrementare la varietà dei mieli disponibili in Sardegna. È per questo che è necessario cercare di migliorare la cultura del miele all'interno del territorio che già da oggi vanta migliaia di appassionati nell'isola che possono rispondere sicuramente a nuovi servizi e a partecipare a promuovere a nuove manifestazioni a sagre che potrebbero andare a valorizzare sicuramente il settore. È per questo che il documento, in questo caso le slide, cercano di dare una visione d'insieme del settore apistico sardo con il fine di contribuire allo sviluppo di una vera e propria via economy mediterranea collegando i cluster di 5 paesi tramite il progetto MedBusinessUp.